Noi abbiamo lavorato esattamente fino a ieri sera come se non fosse cambiato nulla perché siamo convinti che le misure che abbiamo previsto, che sono quelle che servono a limitare l'assemblemento delle fermate, che sono quelle relativamente al potenziamento più possibile del trasporto, saranno funzionali nel momento in cui gli organi preposti decideranno di riattivare la didattica in presenza, nelle percentuali che riterranno più opportuno. I momenti di criticità sono quelli dell'uscita delle scuole, dove c'è l'arrivo in contemporanea di tantissimi studenti in luoghi individuati. Abbiamo pensato di splitare, di dividere le fermate, magari per direzione di destinazione, in modo che già con la riduzione del 50% degli studenti in presenza c'è una riduzione effettiva delle pressioni alle fermate. In più, dividendo i ragazzi per destinazioni, il fenomeno dovrebbe essere ancora molto più ridotto e quindi sicuramente meno pericoloso. Nello specifico, quindi, quali saranno nel nostro territorio gli istituti interessati da questa divisione delle fermate? Sì, in primis il campus. Praticamente lì sono state individuate ulteriori cinque fermate. Una distribuzione abbastanza cospicua, visto l'alto numero di studenti che frequentano il campus. Poi qualcosa sulla statale adriatica in corrispondenza dell'istituto agrario. a Fano, al Pincio, dove si concentrano tutti i ragazzi all'uscita dalle scuole, a Urbino, lungo il giro dei debitori, a Fossombrone davanti all'istituto Donati e invece per gli istituti periferici il problema è un po' sicuramente molto ridotto dato l'esiguo numero di ragazzi che si spostano e utilizzano l'autobus per raggiungere la scuola. Per quanto riguarda le linee invece, qual è la situazione? Ce ne sono state alcune più potenziate, altre meno? No, noi si riparte con la situazione antecedente al fermo del 3 novembre dove già allora erano state potenziate perché ricordo che c'era il 100% della didattica in presenza e la riduzione della capacità di carico all'80%, quindi mantenendo quel potenziamento con il 50% del carico e il 50% della didattica in presenza dovremo sicuramente e assolutamente garantire il trasporto in sicurezza. Molte di queste soluzioni sono convinto che saranno mantenute anche quando la pandemia sarà finita perché è stato motivo di ulteriori valutazioni e molto probabilmente sarà anche un servizio che sarà anche più ben fatto.